Ciao, sono Barbara, mi sono diplomata lo scorso anno all'ITS Academy Last, corso tecnico superiore dei trasporti e dell'intermodalità. Ho scelto di frequentare questo corso perché alle superiori ho assistito ad una presentazione e mi è sembrata un'opportunità interessante per frequentare un corso pratico che mi inserisce direttamente nel mondo del lavoro. Attualmente sto lavorando nel reparto approvvigionamenti e trasporti all'interno dell'azienda per cui desideravo lavorare, quindi mi occupo di pianificazione della produzione dei prodotti e di organizzarne il ritiro. Questa azienda importa prodotti da tutto il mondo, quindi mi dà la possibilità di scoprire nuove realtà.